benvenuti a una nuova puntata di medicina oggi siamo siamo ancora con il nostro ospite diciamo preferito a questo punto si può dire così il nostro amico dentista il dottor vincenzo ginefra buongiorno a te è la terza puntata e siamo contenti di nuovo di averti tra noi perché ci sono ovviamente tante tante domande abbiamo avuto molti molti radioascoltatori che hanno mandato delle domande e poi ci sono anche delle curiosità personali che voglio affrontare con te mi permetta ancora una volta di darti del tu perché sei diventato di famiglia allora l'altra volta facciamo una breve sintesi quindi le due volte scorse allora la prima volta abbiamo parlato essenzialmente di prevenzione la volta scorsa di bambini di come trattarli e dell'alimentazione di come avere una buona alimentazione del fatto se non ricordo male di non spaventarci se nel mangiare cose colorate perché servono per il nostro organismo e quindi poi ci sono delle tecniche per far sparire per togliere le macchie quindi questo ci ha un po ci ha rassicurato non poco al riguardo perché la gente comunque è spaventata e oggi affrontiamo una nostra un'altra branca di cui tu sei specialista ovvero l'ortodonzia cerchiamo di sfatare questo mostro spaventoso io lo definisco un mostro spaventoso perché avere i denti sordi non è non è un piacere l'ortodontista è quello appunto ipotizzo che prova a correggerli questi difetti attraverso apparecchi e quant'altro di cui tu adesso ci spiegherai e è davvero difficile essere ortodontista l'ortodonzia in generale difficile guarda l'ortodonzia è una cosa difficile tant'è che la devono fare gli specialisti in ortodonzia e noi chiediamo perché molte volte e molti dentisti generici che a cui probabilmente non piace approfondire studiare però gli piace magari spaziare in tutte le branche dell'ortodontiatria io credo che per l'ortodonzia ci voglia una specializzazione universitaria che va fatta in maniera seria perché l'ortodonzia diventa complicata quando si sbaglia la diagnosi ortodontica cioè la diagnosi ortodontica è fondamentale per iniziare col paziente un percorso che lo porterà o alla soluzione del caso in maniera brillante serena senza dolore senza complicazioni o in maniera drammatica in un fallimento di tipo terapeutico se il dentista l'ododontiatra seppur valido non è uno specialista in ortodonzia spesso non riesce ad affrontare in maniera corretta la diagnosi e sbaglia la terapia quindi ripetiamo andiamo dagli specialisti certamente andiamo come le diceva come tu dicevi l'altra volta l'equip quando andiamo quando andiamo dall'odontiatra generico a seconda della diagnosi ovviamente pretendiamo che l'odontiatra abbia una specializzazione in ortodonzia se questo non è ci sono tantissimi me compreso che sono specialisti universitari cioè che hanno fatto i canonici tre anni di specializzazione universitaria che sappiano correttamente strutturare una diagnosi e una terapia beh del resto anche giusto perché la nostra bocca è importantissima per carità ogni altro organo è importante perché è vitale però la nostra bocca è la nostra bocca certamente e quindi bisogna averne la massima cura a tal proposito la sottoscritta in tempi non sospetti fin da bambina ho avuto rapporti ovviamente con i dentisti e anche con gli ortodontisti io ho portato per esempio sia apparecchio prima l'apparecchio fisso per tre quattro anni poi sono passata al mobile eccetera una volta finita la terapia i denti erano tornati bene ben dritti dopo un periodo brevissimo ho cominciato di nuovo ad avere dei problemi sembrava che io non avessi fatto nulla cioè nulla qualcosa è rimasto ovviamente però ci sono dei problemi e in realtà dovrei rimettere l'apparecchio e ricominciare da capo non ho avuto voglia gli dico la verità metto per pigrizia tutto quello che si vuole ma solo per due denti dico ora però ammetto che sbaglio è assolutamente mea culpa in questo caso ma non ho voglia di riprendere il percorso questo è il classico esempio di una un trattamento ortodontico non fatto da uno specialista ortodontico uno specialista ortodontico avrebbe fatto una contenzione post ortodonzia cioè avrebbe fatto un'azione di bloccaggio della sua condizione dentale al momento del fine del trattamento ortodontico e avrebbe evitato ciò che si chiama una recidiva i denti purtroppo si muovono sono sempre in movimento in continuazione mi sta dicendo si muovono continuamente se c'è una malocclusione c'è una malocclusione noi andiamo a far muovere i denti in una maniera diversa da quella che è il movimento naturale del dente stesso cioè obblighiamo il dente a muoversi in una certa maniera e addrizziamo il dente o lo posizioniamo nella corretta posizione ortodontica quindi di occlusione ideale che le fa sembrare la bocca diciamo più bella e le riesce a mangiare anche in maniera più corretta quando noi abbiamo finito questo percorso sia con un apparecchio di tipo fisso o un apparecchio di tipo mobile addirittura con le mascherine ortodontiche che oggi vanno tanto di moda all'epoca non c'erano ma adesso ci sono noi dobbiamo delle cosiddette faccette o sbaglio le faccette sono una questione estetica ma alla fine del trattamento ortodontico il bravo specialista ortodonzista mette o un filo posteriore detto retainer omette delle mascherine di bloccaggio dei denti per alcuni anni per alcuni anni per evitare che si formi la recidiva come purtroppo è successo a te succede sarà successo anche ad altre persone sarà successo sicuramente il fatto di comunque di ricominciare da cavolo la cosa non mi entusiasma però ci sto pensando perché se poi porta altri problemi chiaramente dovrò intervenire naturalmente naturalmente io leggo anche qui tra le tue specializzazioni vorrei parlarne un pochettino poi poi volevo fare una una telefonata di una nostra una vostra telespettatrice che mi ha contattato e mi ha detto che aveva dei problemi importanti sulla cervicale che mi ha descritto e devo dire che molte volte alcune problematiche della colonna del racchide cervicale sono portati da un mal posizionamento della mandibola e come si fa a capirlo si fa con una visita ortodontica si capisce perché ci sono l'ortodonzista specialista sa attraverso la palpazione dei muscoli e alcune indagini strumentali diciamo adeguate riesce a capire quando il problema o è della colonna indipendentemente da ogni altra cosa o dipende dalla mandibola spesso dipende dalla mandibola e con un piccolo accorgimento che noi riusciamo a offrire quindi la signora io gli ho spiegato che attraverso l'uso di un di un piccolo strumento che si chiama bite riesce con degli esercizi contemporanei al bite a migliorare tantissimo la propria condizione della colonna vertebrale ed evitare problemi tipo le vertigini e altro che sono derivati dalle complicanze di questa situazione perché molto spesso si confondono le due cose perché uno pensa dice cavolo o male alla cervicale o la cervicale invece non è la cervicale dovuto a una patologia dentale non sempre riusciamo a capire esattamente io ho anche pazienti che hanno problematiche più importanti da di dal punto di vista generale che comunque spesso hanno provato tante terapie e invece facendo delle visite ortodontiche hanno poi aiutato a risolvere i loro problemi ah benissimo benissimo abbiamo ancora pochissimo tempo però io una domanda che la voglio il tempo come si dice il tiranno però ci fa piacere volevo farti una domanda sull'estetica che cosa fa un uno specialista per per l'estetica che cosa intendete perché in effetti sì sembra una cosa assurda per me andare solo per l'estetica però allora allora innanzitutto l'otontoiatria oggi non deve essere solamente curativa ma deve essere anche migliorativa in alcune condizioni oggi si tende a migliorare il proprio aspetto e quindi si tende anche a migliorare la propria bellezza attraverso anche un sorriso più bello più luminoso più bianco sì per poter fare questo quando non ci sono delle problematiche importanti che vanno curate attraverso come abbiamo detto prima l'ortonzia o quant'altro si può migliorare il sorriso modificando nel colore quindi come se fosse un parrucchiere del dente diciamo mentre la donna per i capelli va dal parrucchiere c'è anche sì il parrucchi scusi è migliore il colore per cambiare il colore con delle colorazioni certamente naturali ovviamente naturali ci sono oggi delle dei prodotti che sono prodotti sbiancanti che ripeto però devono essere utilizzati bene perché spesso non vengono utilizzati bene sono dei prodotti sbiancanti che fatti bene e con una certa frequenza stabilita dallo specialista portano ad risultati eccezionali quindi il programma si deve fare sempre con voi certamente e deve essere anche una persona capace poi quando non è sufficiente la colorazione ottenuta dallo sbiancamento oggi si può ricorrere a alcune alcuni strumenti odontoiatrici di tipo protesico vengono chiamate faccette le cosiddette faccette che sono molto sottili e addirittura si mettono sui denti senza toccarli che possiamo diciamo appoggiare sui nostri denti naturali li possiamo posizionare e usando un termine un po semplicistico incollare sui denti e fanno trasformare le bocche in splendide bocche allora il nostro tempo ahimè è finito purtroppo ho il tempo solo di dare i nostri contatti ci teremo appuntamento da una prossima volta a questo punto perché tante sono le domande che le vorremmo porre allora siamo reperibili attraverso la posta elettronica su Radio Speranza chiaccelina diocesipescara.it non dimentichiamo le nostre frequenze agli 87.6 megahertz siamo reperibili anche attraverso sms whatsapp al numero 333 580 96 43 qui potete contattarci e fare le nostre domande ai nostri medici di fiducia siamo anche su facebook alla pagina Radio Speranza siamo su google plus e youtube al canale Radio Speranza Pescara non dimentichiamo la piattaforma TuneIn.com disponibile per tutti i dispositivi computer smartphone e pc io vi do vi diamo appuntamento alla prossima volta con la nostra rubrica e chissà ancora una volta con il dottor Ginefra con molto piacere sarà possibile va bene comunque ci terremo sicuramente in contatto come faremo con i nostri altri specialisti che comunque salutiamo tutti quanti e ringraziamo per la vostra disponibilità saluto anche l'arcivesco Monsignor Valentinetti certamente che ci ospita ed è molto sensibile e fare queste trasmissioni aiuta lo spirito e anche il corpo il corpo assolutamente allora noi vi diamo appuntamento alla prossima volta con la nostra rubrica medicina oggi io ringrazio di nuovo il dottor Vincenzo Ginefra che ci ha tenuto compagnia in queste settimane grazie e spero di rieverlo presto ospite grazie alla prossima arrivederci salve ciao 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 ciao